milano grande anche in europa dopo aver conquistato la sua settima coppa italia si sbarazza facilmente del maccabi tel aviv anche in eurolega sedicesimo successo in stagioni per gli uomini di coach messina che ancora una volta partono dalla difesa da quei 12 punti subiti nella prima frazione 27 all'intervallo lungo prima heinz e da tome poi shields panther lo stesso chaccio rodriguez e infine mizzov l'uomo giusto al momento giusto per l'olimpia non un solo protagonista ma un'intera squadra al servizio della gara e proprio il rientrante mizzov ha messo dalla lunga canestre importanti nella serata in cui l'olimpia dovuto rinunciare agli dei con questo successo darmani sale al secondo posto e raggiunge momentaneamente il seska mosca